Si comincia a parlare di amministrative in programma a maggio a Cerveteri e Ladispoli. In riva al Tirreno a 6 km dalla città Cerite potrebbe partecipare alla corsa per Piazza Falcone l'attuale primo cittadino di Cerveteri, Alessio Pascucci, il cui mandato da sindaco terminerà dopo 10 anni. Non sono più voci, ormai c'è una corrispondenza di fatti, incontri e quant'altro che lascia presagire a una scesa in campo di Pascucci sostenuto da liste civiche e dal partito democratico che in un primo momento aveva fatto muro contro la candidatura del sindaco di Cerveteri. Per il suo testimone invece vi sono in lizza tre nomi, quello di due donne, Batafarano, attuale assessore allo sport e cultura e Gubetti, con delega all'ambiente. Ma siamo ancora all'inizio del percorso, poiché come terzo aspirante ci sarebbe, all'interno di una grande coalizione di centro-sinistra guidata dal partito democratico, l'ex vice sindaco Giuseppe Zito caldeggiato dai vertici regionali del PD.